Amici di Canale 2C, buon pomeriggio a tutti, buon lunedì, ricomincia la settimana di programmazione di questo appuntamento quotidiano che vi passiamo tutti i giorni alle 14.30 dopo aver visto il nostro TG e dopo aver visto la striscia di Chichirichi, la nuova rubrica andata in onda partita a metà del mese di ottobre curata da Emanuele Giordano. Come diciamo andiamo in onda alle 14.30, ma se poi vi perdete qualcosa non vi preoccupate, se avete voglia di rivedere la puntata potete farlo stasera alle 22.30 e ascoltarla anche in radio, stasera sempre alle 19 e domani a mezzogiorno. Oggi vi annuncio che sarà una puntata carina, piene di novità, manca poco alla fine dell'anno ed è un periodo nel quale iniziano le cosiddette produzioni legate ai calendari. Tempo fa, se ricordate, abbiamo parlato di un calendario particolarissimo che era stato prodotto dall'ospite che abbiamo qui con noi in studio e siccome ci eravamo lasciati con la promessa di rincontrarci e di rivederci per parlare del nuovo calendario, ecco qui l'ospite di oggi, il professor Vito Cicci Marra, grazie e benvenuto, dell'Associazione Culturale Altamura Ieri. Allora, professore, ho visto che oggi abbiamo veramente tanta roba da guardare e da far vedere ai nostri amici telespettatori, cercheremo anche in modo multimediale di farvi ascoltare delle cose carine, ma parleremo di cosa? Di un calendario che è già pronto qui, per la stampa, che è quello del prossimo anno, 2017. Intanto, ok, qui sono il professor Cicci Marra Vito, ex docente d'inglese e adesso dedito, quasi a tempo pieno, al recupero delle tradizioni altamurane. Io ho fondato questa associazione culturale Altamura Ieri, proprio con lo scopo di recuperare le cose del passato e chiaramente il modo migliore è non recuperare, tenerle per me, però diffonderle. Queste tradizioni, curiosità, tutto quello che appartiene al passato, sto cercando, anche con l'aiuto della tecnologia, di diffonderle agli altamurani. Allora, se la regia fa un campo largo, adesso vi facciamo vedere, abbiamo una scrivania piena di roba, perché abbiamo tantissime cose da mostrare. Intanto questa è la locandina del calendario 2017, diciamo il calendario del quale parleremo oggi. Perché parleremo di questo calendario? Perché è un calendario molto bello che al suo interno narra qualcosa, al di là delle date, le feste, gli antichi mestieri, i stornelli, i soprannomi altamurani, ma la grande, direi, originalità di questo calendario sta nel fatto che per ogni mese se c'è un evento che riguarda altamurani, lo dici tu, una parrocchia, una cosa, come funziona? Come l'hai organizzato? Abbiamo pensato di mettere anche tutte le festività parrocciali, per cui se andiamo al 26 luglio, che è Sant'Anna, noi diciamo la regia, adesso andiamo subito sul 26 luglio, per capire. E' una festa parrocciale, la parrocchia di Sant'Anna. Oltre alle domeniche e le festività che tutti conosciamo, questo calendario ci dice che il 26 luglio, festa parrocciale, mi pare che sta scritto. Ma c'è anche quest'altra, il 16? Il 16, la chiesa del Carmine, la madonna del Carmine, del Monte Carmine. Quindi noi in casa abbiamo questo calendario che ci ricorda che le varie novità sulle ecclesiastiche, qualcuno può anche sfuggire, uno di un altro quartiere, non so, non so che alla chiesa della trasfigurazione c'è un sanno ricordo. Comunque sono tutte annotate. Allora, professore, io sfogliando il calendario ho visto che proprio nel corpo centrale delle pagine, mese per mese, c'è una foto di Altamura, o meglio di figure della storia altamurana, quindi magari ne abbiamo una che possiamo vedere assieme anche, proprio restando sul calendario di luglio. Ecco, questa è una famiglia altamurana al mare con i costumi... Sì, famiglia degli anni 50-60, insomma, sono delle foto, diciamo, belle che mi ha concesso, lo possiamo anche dire, l'ingegnere Michele Di Fonzo, che ha tanto di quel materiale del passato, questo, gentilmente me le ha concesse queste foto, il grafico ha voluto rendere più belle queste foto incorniciandole, per cui ogni mese c'è una specie di quadro dove chiaramente non sta scritto niente di questo quadro, di queste foto, ma basta guardarle e ci dà uno scorcio del passato di Altamura. Allora, siamo ancora sulla pagina di luglio, adesso stavo dando, poi un'occhiata un po' a campo largo, ci sono i mestieri scomparsi ad Altamura. Eh sì, ogni mese... La Mammero. La Mammero, un mestiere ormai scomparso. Esatto, perché si va all'ospedale a partorire, prima si partoriva in casa. Prima invece si partoriva in casa e lì c'è una sintesi di quello che era questo lavoro della legatrice. Volevo dire una cosa che è importante, che può essere anche scritto nell'introduzione. Questi mestieri sono delle sintesi, non c'è tutto nelle foto. Io comunque ho detto che se qualcuno vuole, basta andare sull'altra mia pubblicazione del 2012, il libro dei mestieri tradizionali di Altamura, è più approfondito. È più approfondito, perché chi vuole può andare su quel libro e troverà tutto quello che io sono riuscito a sapere, a mettere insieme su questi antichi mestieri. Ecco, io sto guardando presente. Restiamo ancora sulla pagina di luglio. È una cosa ricchissima. Ci sono, come abbiamo detto, i mestieri antichi, i soprannomi altamorani. Questo è un esempio Svelte. Svelte. Veloce e rapido nel corpio delle cose, nel parlare, nel camminare. E c'è il soprannome dato a questo signore, Sergio Moramarco, nato nel 1888 e deceduto nel 71. E quindi poi di Lai, i soprannomi hanno sempre una storia. Sì, c'è tu, forse lo diremo dopo, non so, è la intenzione di fare un libro proprio sui soprannomi altamorani. Non so se lo vogliamo, se è il caso adesso lo diciamo. No, restiamo ancora sul calendario, perché guardando la pagina, poi, ripeto, oltre alle date, i santi, eccetera, eccetera, abbiamo. Ha i numeri utili anche i proverbi. I proverbi. Ogni mese c'è un proverbio. C'è un proverbio. Questo, va bene. Ci sta vando da sul, io non fa sul. Vabbè, diciamo che è anche in italiano, è così. E poi c'è quest'altro. Allora, venendo qui abbiamo ancora. Stornelli altamorani, le curiosità e, andando ancora avanti, oggetti antichi. Questo, per esempio, è un seggiolone, dove si mettevano i bambini. Sì, i vari oggetti che hanno, sono tutti oggetti e foto. Ma questo mi ricorda molto di fare, perché qui si toglie l'affare di su e diventava poi un girello. Diventava un girello, esatto. E questa foto che, chiaramente, sono tutte... E diventava anche una sediolina. Una sediolina, ecco, è una bellissima foto. Poi ci sono la barba red, la i-fass, sono tutti oggetti che hanno a che fare con il mestiere scomparso. La mammaiera. Ah, quindi qui c'è un legame. Eh sì, c'è un legame. Tutti gli oggetti. E poi c'è quest'altra curiosità, un stupolo. Anche questo è una cosa, è un oggetto che è scomparsa all'inizio degli anni settant'anni. I bambini venivano messi in fasce. In quelle fasce, in questo stupolo, in questo contenitore. Era una specie di folder di cuscino, un po' più piccolo. Sì, però il bambino doveva stare con le gambe strette. Veniva fasciato. Veniva fasciato. C'è tutto il procedimento sul calendario di come c'era. E poi bisognava abbassarle e sfassarle. Cambiare i bambini. Era un'operazione e la curiosità più importante è che ci tenevano le persone, anzi era d'obbligo mettere, perché si credeva a suo tempo che il bambino dovesse stare con le gambe sempre dritte, perché in quelle ore che stava legato, il bambino non poteva, si credeva che così le gambe crescessero dritte. Ma non per tutti è stato così. Non so fino a che punto questo era nero, però noi parliamo di… Tornando proprio indietro nel tempo, ci sono persone che hanno subito danni estetici da queste fasciature. Dei trauma messe di queste forzate, perché i bambini non potevano fare niente. Adesso è completamente questa abitudine o questa usanza, poi con l'avvento dei pannolini usa e getto diciamo è completamente scambiato un po' completamente tutto il meglio in questo caso. Allora, la cosa bella che vogliamo mostrare anche ai nostri telespettatori è l'intermedialità. di questo prodotto che potete trovare anche online e noi per esempio adesso abbiamo visto qua, abbiamo tirato giù qualche pagina. eccola qua, per esempio questo è uno stornello altamurano, lo possiamo ascoltare, guardate qui adesso clicchiamo… Molti hanno già capito insomma… Sì, è chiaro anche qua, e questi stornelli fra l'altro come i proverbi sono quelle che io chiamo delle pillole di saggezza dei nostri antenati, questi stornelli che gentilmente è un signore di 89 anni mi ha dato, perché lui mi diceva proprio, il professore sono questi stornelli, te li voglio dire, me li ha detto, sono andato a casa sua, li ho registrati e adesso diciamo ho pensato di mettere uno per ogni mese. Poi si è pubblicato anche una specie di vademecum su come leggere il dialetto altamurano, questo è importante anche per i ragazzi, per le nuove generazioni, hanno la possibilità di approfondire attraverso la multimedialità. Questo è un modo di come io e alcuni colleghi abbiamo scritto l'altamurano, se noteranno i lettori che andranno, forse l'hanno già visto con gli altri calendari, che il modo come scrivere l'altamurano non è facile, noi abbiamo pensato, io e anche un mio collega, il professor Petronella con cui abbiamo ideato questo modo di scrivere l'altamurano e inserire nell'alfabeto italiano una e al contrario, che non è altro che lo schwa, è un simbolo dell'alfabeto fonetico internazionale, che non c'è nell'alfabeto, però io mi riferisco in questo caso al mio ex mestiere, ero docente d'inglese e in inglese l'alfabeto fonetico è fondamentale e c'è un suono nella lingua inglese che si chiama lo schwa, questo è al contrario, che è il suono e, basta pensare alla parola inglese girl, scritto girl, però per pronunziarlo questa i non è né i, né a, né o, è un suono che esiste in inglese ed esiste in quasi tutte le parole altamurane. Tu stavi parlando, io mi stavo divertendo sul tuo sito, ho trovato un altro proverbio carino e lo facciamo ascoltare. Andare a letto presto la sera e alzarsi presto la mattina. Ho detto, sono delle pillole di saggezza. Senti, ma la voce è di chi è? La voce è di un caro amico mio, Carlo Castoro, non so se lo conosci, lavorava alla Cassa di Risparmio, era direttore, non so, ha lavorato alla Cassa di Risparmio. E lui ha letto tutti questi proverbi? Sono 1.368, quindi se uno va o sul libro o sul mio sito, sono tutte registrate dalla voce di questo signore. Quindi se metto, proverbio, basta mettere il codice, P2, 0, 5, no, lo 0 avanti bisogna mettere. Ah, sempre lo 0 avanti. Sì, qua devono essere quattro cifre, sì. P, 0, vediamo un po' che proverbio esce. 0.105 dovrebbe uscire. Adesso, eccolo qua. E ascoltiamo. Ci muore se ne vè, del cielo umano sono di uè. Eh, quindi, chi muore, c'è la spiegazione ovviamente là. Sì, chi muore va via, per chi rimane rimangono i guai, quindi la contestazione pratica dopo una morte, che c'è un lungo strascico sia psicologico che amministrativo anche. E anche chi deve pagare i funerali. E' una mara constatazione della vita pratica dopo la morte. C'è per ogni proverbio, c'è sempre la spiegazione ovviamente, la traduzione e la spiegazione che è fondamentale, quindi è una cosa, come calendario mi sembra che sia forse l'unico in Italia, ad essere multimediale, insomma, perché, chi lo sappia, non ci sono di questi tipi di calendari. Poi, sto notando che c'è anche una specie di disegno che aiuta nella grafica. Io quando ho fatto questo libro nel 2013, l'ho fatto in collaborazione col direttore Cardano, Tommaso Cardano, il quale gentilmente mi ha concesso, perché loro nel 2004 fecero un opuscoletto in un progetto Comenius, in cui fecero in varie lingue questi proverbio e i bambini furono chiamati a disegnare questi proverbio, ovviamente sotto la guida degli insegnanti. Questo è un proverbio che io adesso lo stavo un po' elaborando in profondità, ma poi dopo in effetti l'ho letto sotto e mi ha aiutato a capire, perché se vuoi fare una buona vecchiaia devi cominciare dalla femmina. Allora qui dice che, io mi sono posto una domanda che poi ho trovato qui la risposta, era la femmina intesa, la donna con la quale vivere, qui lascia intendere anche dal primo genito, magari dice se fai una figlia femmina, più o meno la speranza è che ti possa affidire, una probabilità di fare una buona vecchiaia, perché normalmente anche le nostre, mia madre e tante le nostre nonne speravano, la loro speranza era quella di morire con i propri figli o con la femmina di più e non con la nuora, quindi avevano questa, ed era una tradizione che ovviamente spera. Adesso con le badanti è cambiata la situazione. Eh, sta cambiando un po' tutto. Sta cambiando un po' tutto. Allora, oltre al calendario, il professor Cicimarra ha pensato anche alle pubblicazioni da scrivania, questo calendario del 2017 ha anche una edizione da scrivania, dove però non ci sono le foto storiche, ma per un fatto, come si dice, meramente tipografico, legato allo spazio, ma all'interno, ecco, per ogni mese, per esempio qua sul mese di gennaio c'è una spezia, un'erba o qualcosa. Sono le piante aromatiche, sono tutte piante aromatiche. Oltre a una ricetta, quindi mese per mese, una ricetta per le erbe o le aromine, per esempio qui con la menta c'è le zucchine alla menta, che è un piatto tipico al tamburano, per esempio a febbraio si parla dell'origano e qui vedete le patate condite con l'origano, le cosiddette patate con sette, ovviamente questo da un lato e mentre dall'altra parte poi c'è qui, di qui c'è tutto l'aspetto che riguarda le erbe, le informazioni, e qui c'è il calendario che contiene le stesse nozioni tecniche dell'altro, come abbiamo detto prima, quindi per ogni mese c'è scritto, vedete in rosso, le date festive, le settimane che sono importanti per la scrivania. Ecco, qui per esempio ci sono delle diciture che riguardano anche il famigerato carnevale, perché quello è proprio un nodo da sciogliere, perché non si sa mai il carnevale quando inizia, quando finisce la candelora, poi dal carnevale dipende anche la festa di Pasqua, la quaresima, e qui per esempio su questo calendario vi dice quando sarà il martedì grasso, anzi lo possiamo già dire, il martedì grasso è il prossimo anno, il 28 di febbraio, e qui il professor Ciccimara ci ha dato una mano, il giovedì grasso, la candelora, il 2 di febbraio c'è un provetto, la candelora, balla il fratello, che sta sul libero dei provera, la candelora, balla il fratello, ed è anche quello ovviamente registrato, anche qua ci sono i numeri utili, sia su tutti e due i calendari, anche questa è una cosa che ho ritenuto importante per fare, ti sei sfiziato, di rendere queste cose. Allora, il professor Ciccimara sta lavorando, come dicevamo prima, anche su due progetti ancora editoriali, uno è il dizionario enciclopedico del dialetto altamurano, questo è un grosso lavoro, sono quattro anni. un documento preziosissimo, perché qui è ancora tutto, come vedete, under construction, adesso me lo sta impaginando, e quindi qui ci sono proprio tutti i mestieri, c'è tutta altamura, questo libro, lo posso dire, l'ho fatto vedere al sindaco Giacinto Forte, il quale ha detto che è un'opera monumentale, mi ha fatto una breve presentazione che sarà all'inizio del libro e lo ha visto e lo ha ritenuto. Praticamente in questo libro ci sono 9.250 termini altamurani, con la traduzione ovviamente stavo leggendo l'etimologia, significato, i sinonimi, i contrari, i proverbi, l'etimologia di circa 1.500 parole che siamo riusciti a sapere. Io e un mio amico, forse è importante dirlo, questo signore si chiama come me, se vuoi inquadrare il Giuseppe Ciccimarra. E' un tuo parente? No, assolutamente, questo è un signore di Torino, mi pare che l'ho detto anche l'altra volta, con cui ho collaborato sia per il libro dei Proverbi, sia il libro dei… Ma è di origine altamurana? È altamurano, lui se n'è andato a Torino a 17 anni, 18 anni e sono 60 anni che sta lì, 50 anni insomma, e ha fatto un grossissimo lavoro, sia in particolare, la cosa importante, siccome noi nell'ordine alfabetico c'è questa famosa schwa, lui ha trovato il sistema di metterlo in ordine alfabetico subito dopo l'eco l'accento, perché altrimenti la stampa, non viene riconosciuto il suono che lo mette alla fine. Lui, questo signore Peppino Ciccimarra, ha trovato il sistema, ha scontornato tutte le foto, perché è stato un lavoro continuo di messaggi grazie al computer. Io trovavo le foto, gliele mandavo, lui le elaborava e adesso abbiamo la lista delle foto che in questo momento il grafico sta impaginando. Per Natale dovrebbe essere pronto. Proprio sulle vocali si giocano parecchie, tra virgolette, battaglie sul numero delle vocali italiane, perché c'è chi sostiene che non sono cinque ma sono molte di più, perché c'erano vocali che hanno suoni diversi. Questo suono, io ho visto che fortunatamente, in una commedia che hanno fatto l'altro giorno, su Bofine, su Steustrafine, hanno utilizzato per la prima volta, perché su altre commedie lo scrivono in modo diverso come scriveva Don Diego Carlucci, questo l'hanno scritto con la E al contrario e secondo me è sbagliato quello che dicono altri che scrivono in altra moda, che comunque non è una lingua per cui non ci sono regole, dicono che la E si scrive e non si pronuncia, ma niente di più sbagliato. Noi siamo portati a pronunciare tutto ciò che leggiamo. Allora se uno dice come regola che la E è muta, io faccio l'esempio di fin, so Bofine sto strafine. Allora se noi diciamo che la E... Se è al giro capisco che devo mozzare il suono. Allora se togliamo la E rimane fin, se uno legge anche a livello nazionale di Milano legge la E è muta per cui non la devo pronunciare, diventa fin, invece no, non è muta, è fin, quel fin è una cosa, è un suono. Dobbiamo mettere un suono molto vicino alla M ma che non sia la E. Ma non è E, è una specie di I, E e poi queste notizie sono scritte sul... Allora professore abbiamo un altro, acceleriamo i tempi, io sto dando un'occhiata. Dovamo dire più delle caratteristiche. Ora arriviamo, ora arriviamo. Questa è un'altra chicca che è in fase di lavorazione. Il libro dei soprannomi altamurani ed è una raccolta di circa mille soprannomi. Questa è una foto bellissima della cattedrale, adesso per fortuna ci sono i drone, si possono fare delle foto anche sul calendario dietro. Ci danno ecco una prospettiva dalla parte frontale della cattedrale che per anni è stata difficile, diciamo, fotografare perché abbiamo il palazzo Melodie troppo a ridosso. Eccoli qui, riusciamo a vedere proprio la... Ma non parleremo della foto, parleremo di questo libro dei soprannomi che... No, no, magari se la gente ce lo fa vedere... È una primissima bozza. Ci sono proprio degli appunti, delle cose... Allora, per esempio, io sto qua alla lettera... Marangere. Un marangere. Un marangere. Venditore di arance. Col punto interrogativo. Io volevo dire, questo lo dico, io questo a bozza che ho fatto la sto svolgendo con i miei alunni settantenni delle due università della terza età, quello di Barnaba e l'università di Ervolino, del compianto direttore di Ervolino. E mi sono offerto di fare con loro le tradizioni altamurane. E in particolare, da quest'anno, voglio iniziare a fare i soprannomi, in cui io non sarò l'insegnante, ma sarò il discente. I miei insegnanti saranno i miei alunni, a cui ho già cominciato a chiedere, diciamo, delucidazione. Quello, un marangere, per esempio, significa venditore di arance, però volevo sapere effettivamente, e stanno venendo fuori tanti di questi altri soprannomi, io avevo una lista di 930, adesso sono arrivati a 950, perché ogni tanto esce la Fez, per esempio l'ultimo soprannome che è venuto ieri parlando con un signore. Sono tutti questi, diciamo, Utrainier, per esempio, mi ha detto un amico che mi dovrebbe procurare una foto di un antichissimo Utrainier, Utrainier Altamurano. E mi ha detto che questa foto, che io poi conto di inserire, è con un signore con la barba, con l'orecchino, e mi diceva che l'orecchino era a suo tempo simbolo di tutti i carrettieri altamurani. Quindi sono delle piccole... Senti, guardi, c'è un soprannome spettacolare che io non ho mai sentito, eh. Quale? 3D e 3D. 3D e 3D. 3D e 3D, anche quello. E un soprannome che neanche io avevo mai sentito. 3 giorni e 3 giorni, eh, il soprannome, stiamo vedendo delle chicchi in anteprima, dato a una persona poco inclina al sacrificio, quindi lavorava solo 3 giorni alla settimana. E gli altri tre si riposava. Per lui era un'esigenza quasi fisiologica, eccetera, eccetera. No, non vi voglio dire più niente perché altrimenti... Siamo ancora in fase di... Ma è carino come soprannome. 3D e 3D, ma ce ne sono tanti simpatici. Sì, sì, adesso stavamo sfogliando. Simpatici. Questo è un lavoro che sarà fatto l'anno prossimo, fra due anni. Tutto il programma editoriale, chiamiamolo così, del professor Cicci Marra, e oggi lo concludiamo con questo gioco che è un po' il gioco del quale avevamo parlato quando era stato qua la prima volta, il mercante di Altamura, che riprende il più famoso gioco. Il mercante in fiera. Il mercante in fiera, sì. Il mercante in fiera, e qui ci sono poi le varie carte con le foto da abbinare, eccetera, eccetera. E' quello che è importante. C'è una bella confezione anche, adesso la facciamo, eccola qua, la regia ce la inquadra, insomma, è tutta una... Ovviamente questo cofanetto può essere anche, anche le carte possono essere sponsorizzate, se ci sono persone o aziende che vogliono, diciamo... Sponsorizzare su ogni carta. Mi sembra anche, insomma, giusto, tutto questo lavoro che dedicate, il sito, il materiale che stampate, eccetera. Sia le carte, su ogni carta viene il logo dell'azienda e poi le istruzioni che sono importantissime, perché questo oltre a essere un gioco, all'inizio spiega il gioco com'è, però basta girare la pagina e le carte sono numerate da 1 a 40 e su ogni carta il numero, uno va sull'opuscoletto, non so, basta scegliere un numero qualsiasi. 32, l'ho presa, eh, la capessa. La capessa, eh, anche qua. La signorina, no? La signora, la signora, non la signorina, si diceva. Eh, insomma, l'ho presa, era proprio centrata. Ed è spiegato tutto il funzionamento di questo oggetto. Ogni foto, come vedete, ha una sua storia. Quindi è un gioco che io chiamo didattico, perché può essere usato… Allora, io proprio perché noi qui a Canale 2 condividiamo la tua logica, nel senso che dicevi tutto questo patrimonio… Deve essere diffuso. Deve essere conosciuto, diffuso, ecco, proprio perché condividiamo, fa parte un po' anche della nostra mission giornalistica, editoriale, insomma, di rendere noto tutto quello che è giusto, che debba essere conosciuto. E quindi, diciamo che di cose da vedere e da apprendere e da imparare anche da questi calendari, da questi libri, ce n'è veramente tanti. Quindi, questo calendario che adesso mi è stampa, quindi fa in vendita… Già in edicolo. Ah, quindi già da questi giorni… Già sta in tutte le edicole. Eh sì, li sto portando perché me l'hanno dato avanti, quindi quello da tavolo non è ancora pronto, ma è questione di alcuni giorni, quindi per l'immacolata, quindi chi vuole può cominciare a pensare a qualche idea regalo. Diciamo che è una sorta di personalizzazione del calendario di Frate Indovino, fatto in locale. E stranamente, lo voglio dire, io l'idea l'ho avuta due anni fa, proprio perché io da vent'anni, da trent'anni abbiamo a casa Frate Indovino. E proprio perché guardando quel calendario mi viene l'idea di fare questi calendari, perché dico io ho tanto materiale che me lo tengo a casa e è meglio diffonderlo. Il modo migliore per diffonderlo è i calendari. E stranamente quest'anno il calendario di Frate Indovino, per chi ce l'ha, diciamo, io l'ho già visto, praticamente ogni mese ha messo i mestieri del passato. Sta il primo gennaio, per esempio, c'è l'imbalsamatore, Frate Indovino è a livello, diciamo, nazionale, però questo mestiere dalle parti nostre, imbalsamatore, non lo sappiamo. O sappiamo che in passato, però sappiamo che esiste la Mammaire, sappiamo che esisteva il Kaur Narul, Warmanire, che sta anche nel... dove dico che il nostro Demetrio Popolizio è l'ultimo dei Warmanire Altamurani, è morto a marzo, diciamo. Sono cose, per me, molto interessanti. Va bene, e allora ringraziamo il professor Vito Ciccimarra per essere stato qui con noi, ringraziamo voi per averci seguito. Io credo, abbiamo passato davvero argomenti interessanti, ecco, abbiamo fatto un tuffo nel passato, i nostri proverbi, nella nostra storia. 3D e 3D è un soprannome che me lo conservo, perché è originale. Ma ce ne sono tanti che fanno sfogliato e poi verranno fuori... Quest'opera sarà pronta l'anno prossimo. Mi auguro l'anno par Natale l'anno prossimo, perché c'è da lavorare. Noi ti aspettiamo, come si può dire, ti aspettiamo in modo tale che... Ringrazio, ringrazio Canale 2, per cui non sapevo che fosse possibile, diciamo, venire a dire, e adesso che seguo, prima non seguivo Canale, adesso lo seguo, e vedo quante persone accogliete. Noi facciamo televisione con i cittadini, soprattutto. Esatto, e quindi questi argomenti hanno a che fare con la città di Altamura, insomma. Va bene, salutiamoci, siamo andati un po' oltre il tempo a disposizione. Allora, arrivederci, grazie a tutti quanti. È tutto, amici interi spettatori, ringraziamo Vito Ciccimara per essere stati con noi. Alla prossima, canale 2C, dopo il TG.